Giovanna di Rauso nasce a Capua da padre vulcanologo e madre insegnante di ginnastica. Inizia prestissimo a calcare le scene del teatro italiano. Scoperta giovanissima da Giorgio Streller debutta nel ruolo della Maddalena nei giganti della montagna. Si diploma successivamente nella prestigiosa scuola europea e di teatro del Piccolo Teatro di Milano. Scuola diretta dallo stesso Streller. Vince il premio Istrio per giovani talenti nel 1999. Proseguendo poi i suoi studi e vincendo una borsa di studio con Adriana Aboriello. Si diploma inoltre come ballerina di teatro, danza interdisciplinare. Studia ancora con Luca Ronconi al Centro Teatrale Santa Cristina e all'Ecole des Metrae diretta. Da Franco Quadri, ricopre ruoli da protagonista nel panorama teatrale italiano da Peter Panna Giulietta. Ophelia, veroccia lavorando con registi come Iancu. Scaparro, Castri, Gas, è protagonista nell'opera prima di Lisa Romano Se chiudi gli occhi. 2008. Interpreta Lady Macbeth nel Macbeth diretto da Gabriele Lavia. 2009. Nel 2010 è coprotagonista della seconda stagione della serie televisiva Romanzo criminale nel ruolo di Donatella. Sempre nel 2010 vince il Golden Graal per l'interpretazione di Lady Macbeth ed un Golden Graal. Astro nascente per romanzo criminale. Nel 2013 è candidata come miglior attrice al Golden Graal 2013 per la sua interpretazione nella Governante. Testo scritto da Vitaliano Brancati e portato in scena da Maurizio Scaparro. Attualmente lavora alla messa in scena di Liola prodotta dallo stesso stabile napoletano e affidata alla regia di Arturo Cirillo.